Noi ci rendiamo vero conto di avere una squadra che non gioca a calcio, che gioca malissimo, brutta, che non ha schemi, come direbbe il buon Bombi alla cacchientruppen, gioca alla cacchientruppen. Questa sera noi dobbiamo ringraziare i portieri della Juventus, tutti e due, a proposito voglio fare un grande in bocca al lupo a Wojciech Cezni, speriamo che non sia nulla, mi sono veramente spaventato, tra l'altro è una giornata particolare per me perché sarebbe il compleanno di mio padre, quindi sono un po' giù di morale, vedere Cezni che non stava bene, che si toccava il petto, non vi nascondo che mi ha fatto stare veramente in apprensione, poi quando guarda là nell'intervallo ha detto che pare che sia tutto a posto, mi sono un po' rassalenato. Nel primo tempo ha fatto due parate incredibili Cezni e ha salvato il risultato, perché tanto per cambiare abbiamo incontrato una squadra che ci ha preso a pallonate e nel secondo tempo sul finale un miracolo, un doppio miracolo di Parin che dimostra che noi alla Juventus abbiamo due grandi portieri. Questo è molto importante perché i portieri quando fanno queste parate ti fanno vincere le partite o andare avanti nelle coppe. C'è la nota solita del centrocampo, Allegri si è inventato il centrocampo a due con un Kostic vergognoso di una bruttezza inverosimile che non è servito a niente, guarda caso appena l'ha tolto, appena ha messo il centrocampo a tre la Juventus è cominciato a girare e macinare il gioco. È inutile che tu ti inventi il centrocampo a due quando sai benissimo che Rabiotto il centrocampo a due non gioca bene e soprattutto con un Locatelli che questa sera è stato a dir poco vergognoso per non dire imbarazzante. Una Juve brutta, una Juve confusionaria, una Juve che non fa due passaggi di fila giusti, che deve ringraziare il grande talento di Chiesa, deve ringraziare la forza, l'animo, la voglia, la grinta di emergere di Gatti che è stato in assoluto il migliore in campo questa sera con una partita sontuosa, ormai sono una dopo l'altra partita sontuosa di questo ragazzo a cui faccio i complimenti perché a me piaceva e sono contento che mi sta ripagando, però francamente dalla Juve io mi aspetto qualcosa di più. Non pensiate che l'1-0 di questa sera sia un passaporto per le semifinali di Europa League, perché credo che a Lisbona sarà dura, perché loro hanno un possesso palla impressionante, una tecnica individuale molto molto alta e sicuramente nel loro stadio il pubblico spingerà anche perché basta fare un gol e dopo la partita va a pari. Quindi la Juve dovrà fare una partita veramente veramente attenta. Questa sera mancato anche Di Maria, proprio non mi è piaciuto per nulla, di fatto le due ali hanno fatto veramente schifo questa sera, perché Costice è imbarazzante, veramente imbarazzante, la terza partita di fila che è imbarazzante. Io credo che non sia vero quello che dicevo io che è così scarso, ma non sia neanche vero quello che molti di voi dicono che è un gran giocatore. È un giocatore normalissimo, io l'avevo soprannominato Di Livio, però Di Livio per me è stato molto più utile da Juventus di quanto non stia Costice. Vedremo comunque, vedremo se mi dovrò ricredere su di lui, ma tanto ne parlo nelle pagelle. Vi direi una bugia se vi dicessi che la Juventus mi è piaciuta, io sapete che vado al di là del risultato, io sono contentissimo del risultato perché vincere una partita d'andata ti mette con più tranquillità nella partita di ritorno, perlomeno finché non prendi gol là, sei qualificato per la semifinale. Ovviamente ci sono buonissime probabilità che incontreremo il Manchester United. Dall'altra parte, non so cosa ha fatto il Gilos perché sono corso subito a fare il video, so che ha perso la Roma e mi dispiace per gli amici della Roma, ma sono molto contento, io spero che passi il Feyenoord, anche se poi non lo incontriamo perché se dovessimo passare il turno noi becchiamo o il Manchester United o il Siviglia. Quindi, che dire, ci portiamo a casa l'ennesima vittoria di Corto Muso, Allegri sarà contento, non è pronto per il Tridente perché il Tridente tu lo fai se hai una squadra che è organica, che si muove all'unisono, con i centrocampisti che aiutano le punte, le punte che vengono ad aiutare i centrocampisti. Mentre invece così buttare il Tridente, facendo anche la battuta in conferenza stampa, l'ho fatto per farvi contenti e voi giornalisti, è una roba veramente da cabarettista, non d'allenatore. Il Tridente la Juve non lo può supportare perché la Juventus deve giocare contro i centrocampisti, questa è la mia tesi. Poi, se voi volete giocare col Tridente e rischiare di prenderli imbarcata contro chiunque, mettiamo il Tridente a Sassuolo e vediamo domenica come usciamo dalla partita di Reggio Emilia. Io ovviamente direi che finisco qua, la Juve mi fa soffrire, mi fa star male, ripeto, però quando vinciamo io da tifoso gioisco, però colui che ama il calcio e che è un opinionista di calcio non può ovviamente essere soddisfatto di questa squadra che, come vi ripeto, gioca alla viva il parroco o come appunto direbbe Bombi, alla cacchientruppen. Vi auguro buonanotte, per chi vuole fra poco ci sono le pagelle di Juventus Sporting Lisbona. Ciao!